Musica Buonasera, il mio intervento si è incentrato soprattutto sulla tutela e sui diritti del malato in generale e del malato di cancro nello specifico. E soprattutto si è messo in luce come lo Stato molto spesso è sorto alle esigenze reali concrete del cittadino e quindi del malato di cancro perché di fronte alla possibilità di percepire un assegno di invalidità civile e soprattutto la possibilità di avere un'indenità di accompagnamento che sostanzialmente aiuta il malato nelle esigenze anche di natura economica che deve affrontare per allontanarsi, per sostenere le cure mediche. Purtroppo questa indennità di accompagnamento concretamente si riconosce soltanto durante il ciclo di chemioterapia e quindi per i malati soggetti sottoposti a queste cure. Viceversa laddove la chemioterapia termina purtroppo lo Stato viene a mancare perché non riconosce più questa indennità importantissima per il malato e questo è quello che è successo ad Adelaide. Abbiamo fatto ricorso e stiamo in attesa di una sentenza positiva che possa sicuramente avvicinare lo Stato e la legge ai cittadini, soprattutto nelle loro esigenze. Grazie a tutti.